Nell'antri più bassi, il silenzio delle stelle attraverso Maria Teresa G. a cura di VB padre Aurelio. Figli cari, nell'antri più bassi del piano astrale non vi sono soltanto gli assassini di fatto. Vi son pur spiriti incatenati colà da odio, da sete, di vendetta o da rimpianti, pevizi e godimenti loro. E ancora vi son spiriti grandemente confusi e sofferenti, pe' errori commessi, pe' troppa superficialità o pe' ignoranza. Uno di codesti ho avvicinato nell'ultimo trasporto mio inquisito quale missione di redenzione, che ognuno di noi deve svolgere volontariamente e non pe' imposizione, poiché salvo poco eccezioni libertà abbiamo nell'agire. Di codesto spirito rivelarvi potrei financo il nome, che portò se di partito non fosse sì recentemente, e pericolo non fosse di procurare danni ad altri, che coinvolti furono nefatto che segue. Vi basti sapere che fu un medico brillantissimo in un ospedale di città vostra, e che considerato era infallibile di agnosta. Perciò allorché restò vittima di un incidente ferroviario a soli 35 anni di età, lo piansero in tanti. Fu proprio pettale nomea che una sera un uomo andò a parlargli in grande segretezza, pregandolo di abbreviare la dolorosissima agonia di sposa sua. «Lei m'ha detto che niuna speranza aveva oramai, e io più non sopporto di assistere a sì tremenda sofferenza», gli disse piangendo. L'altro ciglio non avea battuto, e poco più tardi alla malata si era appressato praticandole un farmaco, pevia endovenosa, che istantaneamente, accelerati, avea battito cardiaco e respiro, e tutto in qualche attimo si era concluso, senza che la donna coscienza ne avesse, né mentre spirito suo veleggiava gemente su quel fantoccio che già si raffreddava. Però non era l'essersi prestato all'eutanasia ciò che tormentava di più il giovane medico, bensì il suo incontro con lo spirito di quella poveretta, che gli trasmise in un tono accusatorio. Il suo figlio stava arrivando dall'America ove l'avrebbe portata in un centro oncologico che in molti successi otteneva grazie a una terapia sperimentale ancora poco divulgata. «Se tu non ti fossi affrettato a fare ciò che hai fatto, que terapia non avrebbe risanato madre sua, ma concesso le avrebbe ancora un paio d'anni, né quali cose sue materiali e soprattutto spirituali e avrebbe potuto sistemare. Due anni tu le hai rubato, scompensando l'iter già programmato de su karma. Come sempre accade, allorché in nome di giustizia o di errato pietismo, l'uomo s'arroga il diritto di mutare i disegni di Dio. Non v'è agire più iniquo. Figli miei, desio avrei che riflettessero coloro che si propongono di spegnere scientemente un'esistenza sia pur apparentemente vegetativa e altrettanto riflettessero coloro che dall'alto di un tribunale usi son praticare la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, poiché, ripeto, la vita qualunque sia e a ogni età tolta può essere soltanto da colui che l'ha creata. Mi congedo benedicendovi. Grazie. 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 Grazie.